ciao a tutti e benvenuti su sai che web tv in una nuova puntata di sai che prima di tutto un buon tutto da valeria donato e io pino ciao a tutti salutiamo anche i nostri collaboratori sebastiano ariana e sara quindi che cos'è un sai che donato è un programma di video servizi informativi con interviste a professionisti occultori hobbisti di utilità informazione popolare come ad esempio usi e costume arte cultura storie e tradizioni del nostro territorio e tante tante veramente tante curiosità in generale quindi se avete anche voi un sai che da proporre basta contattarci per un pre intervista va bene e allora ora il sai che che parla di arte cultura e storia religiosa proseguiamo con la quarta parte del documentario dell'oasi del sacro cuore di santa maria dell'isola conversano in provincia di bari cosa sono gli ambulacri del chiosco grande cosa viene raccontato con gli affreschi nelle arcate ringraziamo il direttore della santa maria dell'isola don leonardo mastronardi di castellana grotte per l'opportunità concessa naturalmente proseguiamo il racconto con il professor mario giannuzzi di conversano e però prima di vedere il video iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e cliccate anche mi piace sui video che vi piacciono e il campanellino per vedere fra i primi i nuovi video e dopo tutto questo noi vi salutiamo alla prossima puntata di un altro e nuovo sai che quindi sai che puoi interiossare o coinvolgere anche te ciao ed eccoci qui compagnia del professore mario giannuzzi per raccontarvi il gioiello storico l'oasi del sacro cuore di gesù in santa maria dell'isola qui a conversano a un chilometro dal centro abitato dopo aver conosciuto la bellezza della chiesa oggi a sai che conosceremo il convento con i suoi meravigliosi chiostri cominciamo dal chiostro fatto costruire dal conte andrea matteo acquaviva d'aragona prego mario buongiorno cari amici telespettatori voglio innanzitutto ringraziare valeria per la presentazione e salutare donato e pino che sono i nostri operatori con quei marchi ingegni che ci permettono di trasmettere poi in televisione le nostre esperienze siamo dunque all'interno del chiostro grande di santa maria dell'isola e siamo stati accolti dalla madonna dell'accoglienza che qui sulla mia destra fra un po ci sposteremo lungo gli ambulacri del chiostro e osserveremo degli affreschi meravigliosi che ci racconteranno una storia presa direttamente dalla bibbia dal libro della genesi la storia di giuseppe venduto dai fratelli adesso facciamo un tuffo nella bibbia nel libro della genesi e incontriamo il patriarca fondatore del popolo ebraico abramo sappiamo che abramo generò isacco isacco generò giacobbe giacobbe generò dodici figli l'undicesimo si chiamava giuseppe e giuseppe era il prediletto del papà tanto che i fratelli erano invidiosi di questo affetto paterno riservato al fratello giuseppe giuseppe era anche un gran sognatore tanto che cominciò a raccontare ai fratelli un sogno e di qua prenderà avvio la storia che vogliamo raccontarvi ascoltate questo sogno che ho fatto ecco noi stavamo legando dei covoni in mezzo alla campagna quando ecco il mio covone si rizzò e restò diritto e i vostri covoni stettero tutt'attorno e si prostrarono davanti al mio covone gli dissero i suoi fratelli dovrai tu forse regnare su di noi o dominarci e continuarono a odiarlo più che mai a causa dei sogni e delle sue parole giuseppe fece altri sogni un giorno giacobbe il padre di giuseppe e dei suoi fratelli ordinò a suo figlio giuseppe di andare in campagna e portare da mangiare ai suoi fratelli i fratelli quando lo videro arrivare misero in atto un piano terribile qual è questo progetto malvagio lo vediamo nella lunetta successiva eccoci qua eccoci qua il piano dei fratelli era questo inizialmente l'avrebbero voluto uccidere addirittura provvisoriamente leggo dalla bibbia quando giuseppe fu arrivato presso i fratelli questi lo afferrarono e lo gettarono in una cisterna era una cisterna vuota senza acqua poi si sedettero quando ecco alzando gli occhi videro una carovana ma questo lo capiamo fra poco vedendo la lunetta successiva era una carovana di mercanti che si recava in egitto allora i fratelli pensarono di consegnare vendere giuseppe a questi mercanti lo tirarono fuori dalla cisterna lo consegnarono progettando di dire al loro padre che giuseppe probabilmente era stato sbranato da qualche bestia selvatica giuseppe allora giovanetto fu costretto a lasciare fratelli e genitori e la sua terra e fu portato in egitto e adesso vediamo nelle lunette successive che cosa accadrà a giuseppe una volta che è arrivato in egitto come schiavo quando la carovana dei mercanti arrivò in egitto giuseppe fu venduto leggo il versetto della bibbia intanto i mercanti lo vendettero in egitto a potifar capo delle guardie del faraone e nella lunetta facilmente possiamo vedere giuseppe ormai in una terra diversa dalla propria non stupiamoci dei vestiti perché anche se questo chiostro è stato affrescato fra il 500 e il 600 non l'artista non ha riportato panneggi vestiti dei tempi antichi spesso i personaggi sono rappresentati con abiti attinti da altre civiltà ma questo l'abbiamo detto in breve ci soffermiamo soprattutto nel vedere il racconto di quello che accade a giuseppe una volta che sta in egitto giuseppe leggo dalla bibbia trovò grazia agli occhi del suo padrone e divenne suo servitore personale anzi egli lo nominò soprintendente della sua casa e gli diede in mano tutti i suoi averi ma un giorno avvenne che la moglie del suo padrone mise gli occhi su giuseppe e gli disse unisciti a me ma egli si rifiutò un altro giorno giuseppe entrò in casa per fare il suo lavoro mentre non vi era in casa nessuno dei domestici essa cioè la moglie di potifar del padrone lo afferrò per la veste dicendo unisciti a me ma egli le abbandonò tra le mani la sua veste fuggì e uscì fuori ecco questo che la bibbia ci racconta è stato magnificamente espresso in questa lunetta e adesso nella lunetta successiva continuiamo il nostro racconto la moglie di potifar tenne accanto a sé la veste di giuseppe finché il suo signore cioè il marito non fu tornato a casa allora gli disse le stesse cose in questi termini è venuto da me quel servo ebreo che tu ci hai condotto in casa per scherzare con me ma come io ho alzato la voce ho gridato egli ha abbandonato la sua veste presso di me ed è fuggito fuori quando il padrone udì le parole di sua moglie che gli parlava in questi termini è proprio così che mi ha fatto il tuo servo si accese d'ira e lo mise in prigione nel luogo dove il re detiene i carcerati così egli rimase là in prigione e giuseppe trascorse un bel po di tempo con altri carcerati fra i carcerati c'erano anche il coppiere e il panettiere del faraone i quali fecero dei sogni strani comunicarono a giuseppe questi sogni e giuseppe ne dette la spiegazione a uno disse fra tre giorni sarai liberato all'altro disse fra tre giorni sarai ucciso e accadde proprio così giuseppe rimase in carcere passarono ancora un paio d'anni al termine di due anni leggo dalla bibbia anche il faraone sognò di trovarsi presso il nilo ed ecco salire dal nilo sette vacche belle di aspetto e grasse di carne e mettersi a pascolare nella macchia di papiro dopo quelle ecco altre sette vacche salire dal nilo brutte di aspetto e magre di carne e fermarsi accanto alle prime vacche sulla riva del nilo ma le vacche brutte di aspetto e magre di carne divorarono le sette vacche belle di aspetto e grasse e il faraone si svegliò turbato da questo sogno ma si riaddormentò e vi leggo e sognò una seconda volta questo sogno però non è affrescato ve lo leggo dalla bibbia ecco sette spighe venir su da un unico stelo grosse e belle ma ecco sette spighe sottili e arse dal vento orientale germogliare dopo quelle e le spighe sottili inghiottirono le sette spighe grosse e piene il faraone si svegliò era un sogno alla mattina il suo spirito era conturbato il faraone dunque era preoccupato da questi sogni quando li ha raccontati ai suoi dignitari di corte ai suoi sacerdoti ai suoi sapientoni nessuno ha saputo darne la spiegazione ma il coppiere del faraone che era uno di quei prigionieri che erano stati con giuseppe e al quale giuseppe due anni prima aveva detto vedi che il faraone ti ridarà la libertà si ricordò di giuseppe che stava in carcere e disse al faraone nelle prigioni c'è un giovane ebreo capace di spiegare i sogni il faraone allora ordinò presto portatelo da me fecero uscire giuseppe di prigione e lo portarono eccolo nella fresco davanti al faraone che sta sul suo trono il faraone raccontò i suoi due sogni le vacche magre che mangiano le vacche grasse le spighe sottili che divorano le spighe belle e giuseppe umilmente spiegò al faraone il significato dei sogni questo era il significato ci sarebbero state in egitto sette anni di abbondanza a cui sarebbero seguiti sette anni di carestia era dunque necessario nei sette anni di abbondanza fare scorte riempire i granai perché il grano conservato sarebbe servito per i sette anni di carestia che sarebbero venuti in seguito il faraone ascoltò stupito quello che giuseppe aveva detto a tal punto che lo fece liberare dalla prigione non solo lo nominò suo diciamo così fiduciario addirittura suo potremmo dire primo ministro perché giuseppe amministrasse l'economia diciamo così dell'egitto nei 14 anni che sarebbero sopravvenuti giuseppe dall'essere un povero ragazzo ebreo prigioniero è entrato nelle grazie del faraone il faraone gli ha dato pieni poteri gli ha detto gli ha detto questo solo io sarò superiore a te e giuseppe in questo bella fresco che possiamo guardare viene portato diciamo così in trionfo con suonatori che lo accompagnano ballerini giuseppe è diventato l'uomo più potente d'egitto dopo il faraone soltanto egli amministrerà il raccolto del grano la come dire il grano da usare nei sette anni di abbondanza e soprattutto il conservare il grano per i sette anni di carestia che sarebbero venuti in sé in quest'ala del chiostro abbiamo gli affreschi meglio conservati che sono stati restaurati qualche anno fa per quel che è stato possibile ecco in questo affresco che adesso possiamo osservare vediamo come giuseppe è indaffarato a che fare con sacchi di grano compratori mercanti che vengono anche da territori lontani e giuseppe sarà un ottimo amministratore passarono i sette anni di abbondanza e cominciarono i sette anni di carestia una carestia che non si sviluppò soltanto in egitto ma anche nei territori fuori dell'egitto come per esempio in palestina dove erano rimasti i fratelli di giuseppe i genitori di giuseppe anche in palestina la carestia si fece sentire e giacobbe e i suoi figli vivevano nella preoccupazione arrivò notizia che in egitto il grano c'era e allora giuseppe scusate giacobbe disse ai figli andate in egitto a comprare il grano perché in egitto c'è abbondanza e così i fratelli si recarono in egitto molti anni erano passati da quando essi avevano venduto giuseppe e non avevano più avuto notizie del fratello di cui si erano liberati e così obbedendo al loro genitore dieci fratelli di giuseppe si recarono in egitto lasciando in palestina il padre giacobbe e l'ultimo dei fratelli beniamino giunsero in egitto si inginocchiarono davanti al primo ministro del faraone cioè davanti a giuseppe che essi non riconobbero affatto ma giuseppe li riconobbe ma non disse niente anzi li trattò quasi in malo modo come si dice lo vediamo anche dal volto di giuseppe che non rivolge lo sguardo ai fratelli sia per dimostrare così la sua superiorità o forse anche perché la commozione lo ha preso e non vuol far vedere ai fratelli la sua commozione giuseppe disse ai fratelli avete qualche altro fratello che non è venuto con voi e risposta sì un nostro fratello il più piccolo è rimasto con nostro padre allora io il grano ve lo do però uno di voi resterà qui come ostaggio voi dovete tornare anche col fratello più piccolo e i dieci fratelli umilmente obbedirono a giuseppe osserviamola questa lunetta i fratelli se ne vanno mentre uno di loro simone resta ostaggio in egitto e giuseppe sembra dimostrare nessuna pietà deve rimanere in egitto finché i fratelli non saranno ritornati portando anche il loro più fratello più piccolo il loro beniamino di nome e di fatto quando i dieci fratelli ritornarono in palestina portando il grano che giuseppe aveva loro consegnato con la clausola che dovevano ritornare in egitto portando anche beniamino i fratelli aprirono i sacchi e dei sacchi trovarono con enorme stupore il come diremmo oggi il borsello il portafoglio il sacchettino del denaro che essi avevano consegnato a giuseppe cioè giuseppe ai fratelli senza farsi riconoscere aveva dato i sacchi di grano ma aveva anche restituito il denaro i fratelli non sapevano darsi una spiegazione per cui temendo di essere considerati dei ladri dissero subito dobbiamo ritornare in egitto subito e porteremo con noi indietro il denaro che abbiamo trovato nei sacchi e porteremo con noi anche nostro fratello beniamino così come noi possiamo osservare fra poco nella nuova lunetta laddove c'è giacobbe vecchio anziano beniamino e tutti quanti si organizzeranno per tornare in egitto dieci fratelli più beniamino ma anche il padre anche la madre che noi vediamo nella fresco quando giunsero in egitto tutti si presentarono al cospetto di giuseppe la bibbia ci racconta che giuseppe preparò per loro un un pranzo un convito e si stupirono i fratelli e i genitori di questa accoglienza la bibbia poi ci racconta che giuseppe si commosse interiormente nel vedere i genitori che gli non vedeva da tanti anni nel vedere il suo fratellino più piccolo beniamino che non vedeva da tanti anni e nel rivedere i fratelli che lo avevano gettato nella cisterna tirato fuori venduto ai mercanti fu una scena un'esperienza commovente per tutti e la commozione la vedremo nella prossima lunetta ed eccoci all'ultima lunetta che in questo bel chiostro di santa maria dell'isola ci racconta la storia di giuseppe tutti i fratelli e i genitori sono andati in egitto si sono riconosciuti si abbracciano nei loro volti si vede la commozione ma anche la felicità la famiglia si è ricomposta i dodici figli di giacobbe stanno insieme con i loro genitori tutto il popolo ebraico si trasferì in egitto e vi rimase per molti anni finché arriverà la storia di mosè ma questa appunto è un'altra storia e anche questa avventura storica è terminata sicuramente ce ne saranno ce ne saranno tante tante altre grazie mario io ringrazio voi soprattutto perché mi avete coinvolto in questa avventura e chi se lo pensava tempo fa che sai che avrebbe coinvolto anche me allora grazie a donato grazie a pino grazie a valeria che ci dà il suo supporto importantissimo ma lei affidiamo la conclusione grazie e ma io ringrazio don leonardo mastronardi la comunità delle suore ovviamente ringrazio ancora mario gianuzzi un saluto da tutti noi e sai che può interessare coinvolgere anche te